Direi che il settore audiovisivo è in grande cambiamento dall'inizio della rivoluzione digitale a fine anni 90 e comunque dal momento in cui in molti paesi si è introdotta la televisione esclusivamente digitale. È un cambiamento continuo, pieno di opportunità per lo spettatore che però deve confrontarsi con la sua possibilità di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica. Come altra esigenza l'utente vuole avere contenuti adeguati alla qualità dell'offerta tecnologica quindi la tecnologia è bella ma senza adeguati contenuti è vuota e alla fine non interessa l'utente. Certamente se non c'è disponibilità di contenuti l'utente è meno intogliato ad investire in nuova tecnologia. Quindi non bisogna mai dimenticare che alta tecnologia significa contenuti di qualità. Grazie per la visione! Grazie per la visione!